Sì, sappiamo di essere abbandonati. Testimonianza di Spirito Armando, detto Pritt, nato a Praga Udino di Cervasca, classe 1903, contadino. Qui la gente viveva di economie, la gente viveva mangiando patate, polenta, castagne e nella miseria riusciva a risparmiare. Mangiare un uovo era già un delitto. Qualcosa si guadagnava con legname, con il castagno, con il faggio. Il grano rendeva ancora e poi c'era l'orzo e la biada. Facevamo il pane tutte le settimane. Tutte le sette famiglie di Prakudin cocevano il pane nel forno della frazione. Carne ne mangiavamo solo quando si faceva una grande festa. Due o tre volte l'anno un pezzettino di carne. Le famiglie erano tutte numerose. C'erano dieci di una famiglia che vivevano tutti in una stanza. Dormivano estate e inverno nella stalla. I bambini dormivano sdraiati su travi e assi sotto la volta della stalla. Si arrampicavano su con lo scalotto. I nostri vecchi nascevano, vivevano, morivano nelle stalle. Lavoravamo tanto e sempre. Qui neve ne veniva poca. Così d'inverno nelle terre deserte rompevamo la roccia con le mine e con le pietre facevamo le fase, i mur, muri a secco alti tre metri e spessi un metro, che tenevano su la terra. Avevamo le cave della terra. Dove la terra era buona andavamo giù profondo fino a trovare la roccia. Si scavava a picco e pala bel profondo. Poi sul fondo del buco sistemavamo uno strato di pietre e sopra le pietre mettevamo un metro di terra buona ricavando il piano. Così risparmiavamo sempre nuova terra che serviva col mare, a costruire nuovi terrazzini. Oh, qui a Pragudin ce n'è di quella terra lì recuperata col sudore. Ma a vedere la situazione così di adesso, tutta questa terra abbandonata, deserta, non bisogna più parlarne là. Per forza cudivamo la terra. Fuori dalla terra non si trovava guadagnare un soldo. Non si facevano le volture della terra per non spendere. Uno trascurava e l'altro anche pur di non pagare. Buona parte della terra di Pragudin è ancora intestata ai morti. La famiglia paga la taia, paga le imposte a nome dei vecchi, dei morti. Mi ricordo io per avere qualche soldo in mia gioventù andavamo a tagliare il fieno, a raccogliere la foglia dei gelsi, a tagliare il grano in pianura. Facevamo quelle campagne lì per avere quei pochi soldi d'inverno a scendere al paese, a Rocca Sparvera. Andavamo al paese la domenica, all'osteria del bersagliere, da Liusu a giocare a 3-7. Alla sera una fame d'assassino, ma ci spiaceva spendere. Il brodo due soldi, una pagnottina di pane due soldi. Avevo per là 17 anni e mi dispiaceva spendere quei quattro soldi e tornavo a casa con una fame d'assassino. Adesso è ricca la gente, se ha voglia di lavorare del lavoro, ne trova finché vuole. Ma in quei tempi là non c'era lavoro. Quasi tutti i ragazzi e le ragazze andavano da vacchè e da servente in pianura. C'era di quelli che li trattavano male. Una volta ero a centallo, a tagliare il grano. C'era un bocia di otto anni, magro. Si coricava sotto il portico. nella mangiatoia dei maiali. Un palmo di paglia sotto, due stracci di giacca a mettersi sopra. L'ho visto io nel 1928. Era come una bestia. Al mattino era ancora buio, lo facevano saltare giù. Chissà cosa gli facevano fare a quel bocia. Devo dire che padri e madri hanno fatto vite più o meno come le nostre, con un po' di fame. Ora le racconto un fatto di mio padre e di mia madre. Erano in Costa Bella, sopra del Ciapin. Avevano già quattro figli. Bestie non ne avevano nessuna. Non arrivavano ad avere i soldi a comprarne. Castagne non ne vedevano la razza. Non venivano. Mangiavano polenta e basta. Mio padre faceva un po' di legna. Tirava due carrettini di legna alla settimana, da Costa Bella fino a Borgo San Dalmazzo. Tre ore di mulattiera e poi un'ora di strada buona a scendere. Così rimediava qualche soldo. A Borgo comprava un po' di meliga, un po' di farina di grano. Si faceva quella vita lì. Allora mia madre è andata a fare la nurissa. La nutrice, in Francia. Mio fratello più piccolo aveva un anno. Mia madre l'ha messo a Balia, la mia nonna, e poi è andata a Nizza. Molte di qua andavano a fare le nurisse con i grandi signori. Era un mestiere che rendeva. Mio padre aveva una capra rossa alta così. Era con quella capra che mia nonna allattava mio fratello. Un giorno mio padre va a portare la legna a Borgo e si ubriaca. Proprio quel giorno la capra rossa prende da partorire. Nascono due capretti ma la capra muore. E adesso come fare? Mio padre scrive a mia madre che la capra è morta, che la nonna non vuole più tenere il bambino. Allora il padrone di mia madre risponde da Nizza per dirgli la valuta, quanto costa un'altra capra con il latte, che lui paga, manda i soldi. E così fa. Mio padre questa storia l'avrà raccontata mille volte. Io questa storia la ricordo bene perché avevo già sette anni e l'ho vissuta. Ce n'era gente allora a Prakudin. Eravamo trenta e passa gli scolari. A scuola ho preso l'attestato di terza. La scuola era qui vicino, in una stalla. Il mio maestro era un uomo di cervasca, non patentato. Uno che aveva fatto la terza, ma che insegnava bene. I nostri padri ci mandavano a scuola. Loro erano alfabeti, ma ci tenevano alla scuola. Si cominciava ai santi e si finiva a Pasqua. La scuola andava dietro ai lavori, dietro alla campagna. Cosa mangiavamo? Tanta polenta. Tutte le mattine si faceva la polenta, polenta con un po' di latte. Vino in casa non se ne vedeva mai. Ogni tanto al paese, in compagnia, gli uomini si ubriacavano. Stavano magari due mesi senza assaggiare il vino. All'osteria bevevano. Stanchi si ubriacavano subito. Cantavano, gridavano. Cantavano tanto le canzoni di guerra. Alzavano la voce. Si facevano coraggio con il vino. Qui a Pragudin d'estate, alla sera, ci radunavamo tutti fuori, in gruppo. Allora propaganda tutti assieme. Si cantava, si discorreva della terra, tutta roba di interesse. Si rideva, si scherzava. C'era poi uno della borgata che ne contava più del diavolo. D'inverno invece si andava a Nveie. Qui c'era una stalla con due ragazze da sposare e quando arrivava Notu Goletto, da tetto chapin, con la fisi armonica era festa grande. Nelle stalle i vecchi parlavano tanto delle masche. Ci tenevano a quelle funambule. Raccontavano che una donna aveva maledetto le vacche. E allora il padrone aveva fatto scaldare sul fuoco le cheine, le catene. E quella donna aveva sentito il fuoco che le bruciava addosso. Era corsa subito a togliere il danno. Le masche strangolavano i bambini. Di notte i bambini bisognava tenerli d'occhio. I bambini bisognava farli battezzare subito, altrimenti le masche venivano a prenderli. Come nasceva un bambino, bisognava mettergli una catenina al collo con la medaglina della madonna. Se no, le masche venivano a rubarli. Ne morivano tanti i bambini. Ne allevavano la metà. E anche gli adulti morivano. Chi era forte veniva avanti. Chi veniva malato potevano dargli un po' di sciroppo e gli toccava morire. Tè, quel tempo là il dottore costava. Era mica come ora. Ora la gente è ricca. A Bernezzo c'era una stregona che toglieva il fuoco, che guariva le bruciature, guariva anche la furia del sangue in faccia. La risipola strofinava sulla faccia malata una moneta e il male svaporiva. Mio parzè, mio nonno, era tanto perseguitato dalle masche. Una notte che andava in veglia ha sentito un urlo, un grido due volte vicino ai piedi. Come è tornata a casa ha trovato nella stalla una vacca morta. Zia Lena non aveva ancora i denti. Era piccola piccola. I suoi erano a lavorare in campagna. Attento Giordano. Era nel 1900. Quando i suoi sono tornati a casa, Zia Lena era nella culla con tutte le labbra tagliate. Tagliate con le forbici. Un'altra bambina l'hanno trovata senza un occhio. Tutta roba delle masche. Non ho fatto la guerra del 15. Ero troppo giovane. Di Pragudin ne sono morti tre in quella guerra. Ma ne sono morti di più di Spagnola che in guerra. Nel 1918 di Spagnola è morto anche mio padre. Quando arrivava il dottore erano già morti. Mio padre aveva fatto tre anni di guerra in Africa e poi un anno e mezzo in prigione. Era nella cavalleria. C'era stato lo sbandamento. Lui veniva indietro a cavallo. A 500 metri ha visto una pattuglia di neri. Ha sparato. Combinazione erano dei nostri. Ne ha ammazzato uno. E così l'hanno messo in prigione. Nell'ultima guerra mi hanno richiamato due anni sotto. A Padova e a Bergamo. Marcava già brutto. Tutte le sere a Bergamo i soldati picchiavano i fascisti. Hanno dovuto mandarli via i fascisti. Mandarli in campagna. Poi è venuto lo sbandamento. Ero già a casa. Sono passati tanti soldati. E cavalli. E muli. Tutti i soldati sbandati chiedevano da mangiare. Pensavamo. Ora andrà alla fine questa guerra. Sono arrivati i tedeschi. I fascisti. E i italiani. Che cosa pensava la gente? Sono sincero. La gente non aiutava. Se vuoi bene a uno. E poi l'altro. Tutti restavano fuori. Per non mischiarsi. Non sa che pasticcio che c'era. Speravamo solo che andasse alla fine. La gente era di nessun partito. Come me. Sappiamo come sono i partiti. Ne contano tante. E poi se vogliamo mangiare dobbiamo lavorare. Essere rossi o bianchi è la persona che fa. Non il colore. I partigiani hanno dormito tante volte nella nostra stalla. Dei partigiani non avevamo paura. Avevamo paura delle spie. Cristiana Mund. Qui i partigiani non hanno mai preso un vitello. Erano ancora bravi. C'erano anche le bestie tra i partigiani. Che ne combinavano senza che il comandante sapesse. Il comando però era giusto. La gente non sapeva nemmeno più. Non bisognava parlare. Non parteggiare per nessuno. Lasciare andare l'acqua sempre verso il basso. Quel tempo là era così. Eh. Sti poveri partigiani. Ne hanno passate delle paure. Una volta sono arrivati i repubblicani. I nostri si sono nascosti nella fontana. Lì c'era una caverna che saliva 20 metri. Sono saliti su. Allora l'acqua diventava torbida. Le nostre ragazze avevano paura che i repubblicani vedessero l'acqua torbida e capissero che i nostri erano nascosti là nella caverna. I fascisti volevano andare alla fontana. Le ragazze non li lasciavano andare. Andiamo noi a prendervi l'acqua dicevano le ragazze. E facevano le gentili. Se benissimo vecchi di cento anni la nostra vita non cambia. Mi sono sposato nel 1929 e avevamo in saccoccia tra tutti e due 300 lire. E non un solo piatto. Non un cucchiaio. Avevamo i soldi per fare le nozze e basta. Ho comprato l'oro. In quei tempi la vera costava 85 lire ma era grossa. La vera della donna adesso è diventata piccola a forza lavorare. Si è consumata. Sì sì solo alla donna aspettava la vera. Alla donna ho comprato anche la catena e gli orecchini. E lei ha comprato a me l'oia. La spiglia d'oro per la cravatta. Ci siamo sposati alla frazione San Michele e poi abbiamo fatto la festa qui in casa. Una quarantina tra parenti amici qui al pranzo. Era d'autunno. Appena sposati abbiamo preso a lavorare. Pagavamo l'affitto di casa ai fratelli. In pieno inverno lavoravo 15 ore a picco e pala alla diga di Rocca Sparvera. E andavo e venivo a piedi. Un boccone di pane a mezzogiorno e avanti. In primavera ci siamo divisi. Ognuno per suo conto a lavorare in campagna. Mai avanzato tanto come in quell'anno. 3.000 lire da parte a lavorare ai grani, ai fieni, alle melighe. Eravamo allenati al lavoro. Io avevo già fatto le campagne del grano con i falcetti, con le falci, a piedi a Genola, a Savigliano. Una squadra di 7-8 dove ci aggiustavamo, dove ci davano il mangiare e da bere acqua e aceto che disinfettava. Ero già abituato a lavorare da un sole all'altro. E il lavoro dei bigat? Andavamo a piedi con un telo da qui al ponte di ferro di Boves a fare la foglia. Una donna di qui andava a piedi a confreria. Coglieva la foglia, si caricava 85 chili a spalle e la portava su a Pragudin. Mangiava un boccone e tornava a fare un altro viaggio. Vede una volta come facevano qui a Pragudin? Il suocero di Tonico Letto, Armando Giovanni, nel 1900 doveva andare con scritto a Cuneo a fare la visita, ma non aveva un soldo. Allora suo padre gli ha detto prenditi un sacco di patate e lo vendi. E' partito da qui con un sacco di patate di 85 chili sulla schiena. E' andato a Cuneo dove ha venduto le patate e così ha fatto festa. Mio padre ha portato tre sacchi di cemento da Rocca Sparvera qui sulla schiena, 150 chili, per due litri di vino di scommessa. Un quintale lo portavano tutti a spalle quelli di Pragudin. Io da Rocca Sparvera qui ho portato 11 miria e 2 chili, 112 chili di patate da semente. Quella sera è arrivato qui tonico letto con la fisarmonica. Sono ancora andato a ballare. La fatica era tutta passata. Lavoravamo ma sapevamo anche essere allegri. A carnevale facevamo le maschere, i magnin, anche i vecchi si divertivano. Mio padre aveva 70 anni e faceva ancora le maschere. Andava a Cervasca. Invece adesso sono tutti piaciuti. Facevamo anche le ciabre. L'ultima ciabra è del 1945 a Gepu de Tancin. Aveva una figlia giovane e aveva invece sposato la figlia più vecchia. Oggi qui non viviamo mica male ma siamo in pochi. Quattro famiglie piccole. Quando noi moriamo ci sarà più nessuno. Sicuro che fa pena. Pensando a tutti i sacrifici. Accudire la terra come un tesoro. Una spiga di grano per la strada la raccoglievamo. L'erba la tagliavamo anche nei cespugli. Adesso ci sono ortiche dappertutto. i rovi e tante serpi grosse. E tutti i viottoli sono scomparsi. Qui va a perdere tutto. Sì, sappiamo di essere abbandonati. Viviamo come cento anni fa, a lume del petrolio e del carburo. La gente è obbligata ad andare via in montagna. Oggi non si mangia più in montagna. Strade nessuna. E così nessun trattore. Lavoriamo ancora tutto a mano. Io e mia moglie siamo pensionati. Ma chi ha niente? E se le bestie vanno male? E se viene la tempesta? Quest'anno, se non avessimo la pensione, non mangeremmo. Le patate con la siccità non rendono. Eh, a Castelmagno è peggio. Tutto franato. Solo le case abitate resistono. Anche da noi è così. Anche le nostre case di pietra e argilla crollano. Va proprio tutto a perdere. I nostri giovani sono andati tutti alla Michelin, in fabbrica. E qui è venuto a mancare la forza. Dovremmo emigrare in pianura. E là affittare almeno trenta giornate. Ma ci vogliono i soldi. Un giorno o l'altro asfalteranno anche la strada che porta a Prakutin. Ma sarà tardi. Sarà per i turisti, non per noi. Qui attorno c'è ancora uno per valle. A tetto Giordano c'è Mattio. Ha quattro vacche. Mette il fieno a giaciglio, come lettiera. Un giorno Mattio mi ha detto. Più di una volta mi è toccato piangere. Sirol è solo. Cavala è solo. Sono uno per valle. E non vanno d'accordo tra di loro. Anche a Costa Bella le case sono tutte giù abbandonate. Se dura poi sempre così, per i giovani va bene. Ma non dura. Perché tutte le nazioni sono già ben motorizzate e mancherà il lavoro. Noi non lo vediamo più. Ma cambierà. Qui tornerà popolato. Come una volta.